Domenica sarà una giornata di grande sport, tutto siracusano, siamo ai play-off, alla finale play-off, Siracusa incontro a Pistoia, siamo nei campi del TC Matchball, è così la grande squadra che si prepara a questa ultima bella. E il maestro Nico De Simone, un'anticipazione? Sì, siamo alla resa dei conti, ultimissima partita contro Pistoia e speriamo di riuscire a fare un ottimo incontro intanto di andata qui. E sostenuti ci auguriamo da un fortissimo pubblico come è stato domenica scorsa e poi sarà Pistoia a dire il finale di questa bellissima storia. A Bologna c'eravamo quasi, quasi avevamo vinto sul finale poi. Sì, abbiamo trovato una squadra forte e abbiamo perso due o tre singolari proprio di misura, però alla fine siamo riusciti a rifarci con un ottimo incontro in casa contro l'Ambrosiano domenica scorsa. Una stagione tutto sommato positiva, ecco, con quali strumenti, armi state venendo incontro a questo duello col Pistoia? Io a inizio campionato ho parlato, prima ancora che iniziasse il campionato, di due obiettivi raggiunti importanti che erano quelli di giocare per l'ottavo anno consecutivo la Serie A2 e giocarla con tutti i ragazzi siracusani. Quindi siamo partiti già con questi due obiettivi in tasca prima ancora che iniziasse il campionato. Abbiamo proseguito raggiungendo un altro obiettivo importante che sono i play-off con compagini nel nostro girone molto forti e addirittura siamo adesso a un passo dalla 1, quindi è stato un crescendo questo nostro campionato e siamo orgogliosi di tutto questo. Ecco, conosciamo questa squadra tutta siracusana. Piacere, sono Alessandro Ingrao. Alessandro Ingrao, come vedi il tuo avversario Pistoia? Diciamo che noi siamo la nostra forza e che possiamo mischiarci e deciderà il capitano. Siamo tre della stessa classifica e vediamo domenica le sue scelte. Sono due giocatori alla pari, saranno sicuramente due incontri belli sperando che il pubblico possa aiutarci in momenti di difficoltà. A2 maschile, un grande obiettivo già questo, una squadra tutta siracusana. Come vi siete allenati questa settimana? Tanto piaceri, sono Antonio Massara. No, settimana come tutte le altre stiamo cercando di fare sempre gruppo, come ogni allenamento. Dare il massimo e cercare di sfruttare il fattore casa. No, come non stiamo preparando in maniera diversa dalle altre partite questa ultima giornata. Anche perché sì, è l'ultima giornata ma dobbiamo sempre pensarlo come una giornata come tutte le altre, senza metterci pressioni e nulla. Giochiamo, come ha detto Alessandro, con una squadra alla pari sicuramente, con degli ottimi avversari. Speriamo di fare una buona partita. Una squadra alla pari, ma il grande pubblico siracusano sarà dalla vostra sicuramente. Sì, questa è la fortuna di essere in un circolo dove la gente sicuramente non manca. In questo momento rappresentiamo la città, abbiamo veramente in mano una grossa opportunità. Possiamo fare la storia domenica, quindi speriamo di vedere queste tribune piene di gente e portarci punti importanti. Perché alla fine giochiamo per noi, giochiamo per il circo, ma giochiamo anche per la città. Quindi è importante vedere le tribune gremite. Ha detto il tuo nome? Ettore Zito, piacere. Questa oasi immensa di verde nel cuore della città. Sabrina Cortese, ci aspettiamo veramente. Il pubblico delle grandi occasioni e il biglietto è anche gratuito. Sì, quest'anno è stato un anno fantastico. Abbiamo condotto questo campionato, l'abbiamo portato avanti tutti insieme. La squadra è stata compatta, unita, forse come non mai. Ci auguriamo che domenica disputeremo un bel tennis. Ma l'invito che voglio fare ai siracusani è quello di venire e di partecipare attivamente, come è stato domenica scorsa. Scritto anche sui giornali delle testate milanesi, dove hanno detto che il pubblico ha fatto la propria parte. E quindi invito tutti i siracusani a venire e a trascorrere qua l'intera giornata fino all'ultima palla, fino all'ultimo punto. Quindi bocca al lupo a tutti. Bocca al lupo a tutti, domenica quindi è andata contro il Pistoia e poi è la partita di ritorno a Pistoia. In bocca al lupo ottici match ball, grazie. 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 Grazie.